E' andata molto bene, siamo molto contenti del lavoro fatto, perché è un lavoro fatto da mesi, perché comunque oggi l'idea che abbiamo sulle fiere è quello che dobbiamo organizzare tanti mesi prima per poi raccogliere i frutti in fiera e continuarli soprattutto dopo la fiera, però è stato un ottimo avvenuto. Abbiamo avuto un pubblico di wine lovers, tanti wine lovers, che quelli sono molto importanti per il consumo del vino, abbiamo avuto un pubblico di tanti importatori, tante dette ai lavori e Verona Fiera sta cominciando a fare un ottimo lavoro, perché abbiamo visto che c'è stata restrizione, ma si è alzato tantissimo il livello della qualità degli operatori che arrivano molto preparati.